Oggi purtroppo ho dovuto camuffarmi perché ecco mi sono camuffato e la stampa mi ascolta se venivo non camuffato nessuno mi ascoltava per questo Non voglio essere come Washington però quell'immagine ha fatto il giro del mondo quindi ho detto se ha fatto quell'immagine il giro del mondo anch'io mi farò notare